... Avete mai sentito gli animali cantare? No! Per fortuna ci siamo noi di Bucco Ballino! Guardate un po'! Accomodarsi in piena giungla per assistere ad un vero e proprio spettacolo della natura? È tutto vero! Siete pronti ad aprire insieme a noi il libro della giungla? Ciao Bucco Ballino, io sono Stefano Govoni, autore del libro della giungla, insieme a Detto il Gatto, insieme alla Volpe... ... e Tony Labriola, molto piacere! Il nostro spettacolo, il libro della giungla, può essere considerato uno spettacolo della natura. Noi abbiamo tutti gli animali della foresta indiana, abbiamo i lupi, abbiamo gli elefanti, Abbiamo la tigre, abbiamo i pappagalli, abbiamo le scimmie, abbiamo il serpente, ho dimenticato qualcuno? È uno scoiattolo, uno scoiattolo non ce l'abbiamo, abbiamo gli alberi, abbiamo aggiunto una dea che non c'entra niente, però insomma nello spettacolo ci sta. Mogli è naturalmente il protagonista della storia, ma anche gli animali della foresta se la cavano, e come se se la cavano! Questo è uno spettacolo per famiglie, è un family musical si dice in inglese, quindi va bene per i bimbi, per voi, per i ragazzi, per le mamme, i papà, le nonne, insomma per tutti quanti. Ecco, family musical! Tutti noi da bambini abbiamo letto il libro della giungla, ma è interessante scoprire anche altre chiavi di lettura! La chiave di lettura è quella di rievocare, ridare lustro, ridare immagini, in chiave un po' più moderna, forse, attuale, ecco, il tempo giusto è attuale. I tempi sono cambiati, quindi il libro della giungla nostro è scritto pensando ai libri della giungla, ci sono tanti libri della giungla e l'abbiamo reso attuale, quindi leggibile dai bambini di adesso. Noi siamo tutto il cast del libro della giungla, e c'è Balù, e c'è Baghera, Re Banana, i lupi, l'elefante Atley, Achela e il lupo, Cal Serpente, Lupo 4. Ciao Mucco Pallino, salutiamo Mucco Pallino! Ciao Mucco Pallino! Un saluto a Mucco Pallino da Mogli, ciao!